Mono e digliceridi degli acidi grassi, ma che roba è sta cosa? Spesso avrete sicuramente letto nelle etichette degli alimenti industriali, tra gli ingredienti, mono e digliceridi degli acidi grassi, e questo spesso genera confusione. Spesso le persone mi scrivono dicendo, doc, ma che sono questi digliceridi degli acidi grassi? Fanno male? Adesso vorrei spiegare brevemente, in maniera più semplice possibile, cosa siano questi mono e digliceridi degli acidi grassi. Allora, partiamo dai trigliceridi, che sicuramente conoscerete tutti, quantomeno per senito dire, i trigliceridi, quando fate l'analisi del sangue, che viene fuori il valore, i trigliceridi. Cosa sono i trigliceridi? Sono fondamentalmente i grassi più comuni, fondamentalmente in natura si può dire, perché sono costituenti sia degli oli che dei grassi animali, e sono costituiti da che cosa? Da una molecola di glicerolo, alla quale sono collegate tre molecole di acidi grassi, quindi abbiamo acido grasso 1, 2 e 3. Se noi togliamo uno degli acidi grassi, cosa otteniamo? Se prima erano trigliceridi, adesso sono digliceridi. Se ne togliamo un altro, diventano monogliceridi. Quindi, fondamentalmente, i mono e i digliceridi degli acidi grassi non sono altro che dei grassi, che originalmente magari erano dei trigliceridi, a cui è stato tolto una o due molecole di acidi grassi. Ma a che servono? Perché sono aggiunti agli alimenti industriali? Perché hanno diverse funzioni. La principale è quella di essere un emulsionante. Ma cosa sono gli emulsionanti? Gli emulsionanti sono delle molecole che permettono di avere una miscela omogenea a partire da due liquidi che normalmente non si miscelerebbero fra di loro, come ad esempio acqua e olio. Se avete mai provato a unire acqua e olio, avete visto che si separano, no? Non si mischiano insieme. Anche se li agitate, inizialmente sembra che si siano mischiati e hanno formato un'emulsione, se aspettate un pochino comunque si separano. Ecco, gli emulsionanti sono sostanze che permettono di avere una miscela omogenea partendo da due liquidi che non si miscelerebbero fra di loro. E questo qua ovviamente nell'industria è utile perché altrimenti i prodotti che vengono conservati a lungo poi avrebbero l'olio che si separa, comincia a colare, diventano una schifezza e quindi ovviamente un conto è preparare una roba a casa velocemente che viene consumata subito, un conto è avere dei prodotti che vengono consumati magari anche mesi dopo la produzione e quindi ecco perché sono utili. Ma fanno male questa domanda che si pone un sacco di gente? No, non fanno male, sono considerati comunque sicuri ovviamente nelle quantità corrette nei quali vengono comunemente consumati e quindi presenti come ingrediente negli alimenti industriali. Ovvio che se ci sbombardiamo di biscotti hai voglia di dire ah ci sono i digliceli di acidi grassi che fanno male, ci siamo sbombardati di biscotti, il problema è quello, non tanto i digliceli di acidi grassi. Quindi non sono un problema, quindi non createvi questo problema. Invece dovrebbero crearsi il problema una categoria di persone, ovvero i vegani. Perché? Perché i mono e i digliceli di acidi grassi possono essere sia di natura vegetale e in realtà è la più comune perché derivano dalla soia di solito, sia di origine animale. Ora non c'è l'obbligo di legge di specificare in etichetta la provenienza di questi mono e digliceli di acidi grassi. Quindi alcuni prodotti che apparentemente sono vegani magari poi non lo sono perché sono stati utilizzati dei mono e digliceli di acidi grassi provenienti da animali. Quindi se siete per scelta etica vegani e anche questo piccolissimo dettaglio vi crea dei problemi dovete leggere sempre in etichetta che sia riportata la fonte di questi mono e digliceli di acidi grassi. Molte volte è riportata e spesso e volentieri, ripeto, è vegetale ma non è scontato. Quindi attenzione. E tu la sapevi questa cosa? Scrivilo nei commenti e mi raccomando sempre carichi e motivati.